La scuola ha cercato di stabilire ovviamente relazioni internazionali, la più antica e più continuativa è quella con il Brasile, dove abbiamo con l'Università Aveda d'Almeida e con altre istituzioni fatto dei corsi insieme sul progetto Tartaruga e abbiamo proprio formato in un master annuale delle persone al progetto Tartaruga. Tra l'altro queste persone alla fine della formazione sono venute a fare il tirocinio in Italia presso la nostra struttura. È ancora attivo a questa collaborazione, ci sarà un convegno a San Paolo il prossimo anno e stiamo portando avanti ricerche insieme. Abbiamo avuto collaborazione importante sempre a proposito dell'autismo con Israele, con il Mailman Center che si occupa di autismo, con l'Università, proprio anche per confronti sulla terapia di Adica. E l'altro importante relazione attuale è quella con l'Università di Monmouth nel New Jersey, dove abbiamo fatto dei seminari, ma dove è attualmente attiva una ricerca con i bambini di disturbi dello spettro autistico. Stiamo cercando di esaminare soprattutto gli aspetti della prosodia del linguaggio che finora non sono stati tenuti sufficientemente in considerazione.